Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita. Statale 1 Aurelia chiusa a Pisa in corrispondenza del Bivio per Coltano per i lavori di ricostruzione del Cavalcavia. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Chiudiamo con i treni ricordando che oggi e domani è interrotta la circolazione tra Firenze ed Empoli con una riprogrammazione dell'offerta dell'alta velocità e del regionale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!